In che cosa ti sei laureato? Economia aziendale. Da dove vieni? Da Padova. Com'è stata questa cerimonia? Bella, è stata una cerimonia bella, particolare e emozionante. Adesso hai già le idee chiare su che cosa fare? Sì, voglio farla magistrale. Accanto a questo giovane di Padova, altri 800 studenti universitari di Ca' Foscari, provenienti da mezza Italia, hanno celebrato il traguardo della laurea in Piazza San Marco. Per alcuni si tratta di un traguardo intermedio, che apre le porti ad un nuovo corso di studi. Per altri invece è il primo passo verso l'ingresso nel mondo del lavoro, un ambito in cui convergono ambizioni e speranze. Cosa ti sei laureata? Commercio estero e turismo. È stata dura, eh? Sì, pesante, ma alla fine le soddisfazioni arrivano, quindi bello. Adesso quali sono le prospettive lavorative? Prima altri due anni di magistrale, poi pensiamo al lavoro come export manager. In che cosa si è laureato? Lingua e civiltà e scienza del linguaggio, spagnolo e portoghese. Che mestiere vuole fare domani? Probabilmente professore. In cosa vi siete laureati? Lingua cinese. Esatto, lingua cinese. È difficile? È abbastanza. È stato difficile. Adesso che mestiere farete? Cosa volete fare? A me piacerebbe lavorare in un'azienda e fare da interprete, comunque da tramite tra le due aziende, però pur di fare esperienza lavorativa si inizia da qualsiasi cosa, quindi. C'è lavoro con questo fatto, la cinema dell'economia emergente? Io credo di sì, basta cercare, però diciamo che la Cina è abbastanza espansa, soprattutto nell'economia, quindi di sicuro le possibilità ci sono. Dove siete? Io di Arezzo. Bolzano. Ho studiato spagnolo e inglese. Adesso che cosa hai intenzione di fare come lavoro? Allora, non ho in mente proprio un lavoro specifico, però sempre nell'ambito delle lingue o comunque con rapporti internazionali. Di dov'è? Io sono originaria dell'India. E dove vive? Vivo a None Veneto, sempre qua in provincia di Venezia. Come si è trovata a Venezia? Le piacerebbe rimanere. Sì, sì, è qui, è bellissimo, ovviamente la città più bella del mondo.